Ciao a casa Sanremo, un bacione a tutti. Il tuo primo Sanremo, come ti ha accolto questa città? Beh, mi ha accolto bene, nel senso, è una bellissima città, mi sento bene qui, quindi sono contento. Hai fatto qualche giro, ti piace la Liguria? Sì, sì, ero andato a Genova quest'estate e adesso sono qui. E' molto bello, ieri sono andato lungomare, sul porto, molto carino. In bocca al lupo allora per questa esperienza. Grazie mille!